Ramona tornerà a camminare grazie alla raccolta fondi benefica che Chiara Ferragni e Fedez hanno lanciato in occasione del loro matrimonio Con il ricavato del regalo di nozze, i Ferragni e Fedez acquisteranno un arto artificiale di ultima generazione da donare a Ramona, una ragazza che ha subito un'amputazione ad una gamba a causa di una rara forma di cancro Fedez e Chiara Ferragni incontrano Ramona è una ragazza incredibile.Il rapper Fedez ha scritto un lungo post su Instagram in merito all'incontro con Ramona in poche ore, la ragazza è riuscita a trasmettermi positività e tanta energia Ha raccontato che la giovane è stata costretta ad amputare la gamba sinistra dopo sette mesi di immobilità a letto Nonostante tutto, Ramona non ha mai smesso di gettare la spugna e di sorridere, il rapper ha scritto Ha una forza che mi ha veramente spiazzato.Nel suo lungo racconto, Fedez ha voluto precisare che le persone che vivono una situazione simile hanno diritto di poter usufruire delle protesi elettroniche per poter tornare a camminare È giusto restituire a queste persone la dignità che si sono conquistate con tanta forza di volontà Il gesto di Chiara Ferragni e Fedez commuove il mondo.Onore a Chiara Ferragni, e a Fedez Che hanno voluto fare qualcosa di veramente speciale con la loro iniziativa benefica lanciata durante il tanto seguitissimo matrimonio celebrato lo scorso 1 settembre a Noto Sempre al centro dell'attenzione mediatica, la coppia di Sposini, ha voluto condividere con i follower un momento davvero commovente e toccante Il loro post pubblicato su Instagram, ha raccolto migliaia di consensi, e ha fatto il giro del web Un gesto davvero straordinario e degno di due star Un gesto davvero straordinario e di due star